sì ciao ciao federico cominciamo che dici ma sì io direi che possiamo iniziare con questa nuova puntata dello speciale eurovision di rba questa invece la lituana non interessa lituana non è male è un po monica liu si monica liu ha questa pettinatura un po l'aisaminelli di cabaret ma anche gigi mirel matthieu anche un po il caschetto di mirel matthieu che è una r moscia che è infattibile capitale della lituania attenzione capitale della lituania caunas nessuno dice niente dalla regia dicono che non è caunas non è caunas villius è villius io fossi in te lascerei perdere la saperi sono un po fuori fuori l'ausercizio allora volevo solo leggervi scusa stavo dicendo che caunas sembrano insulti piemontesi infatti test proprio in caunas quindi c'è proprio una ricerca estetica di questo di questo momento ma no eh piange toto per te il mio toto ride il mio toto ride fede io so che tu hai degli aneddoti sulle cartoline le cartoline hanno avuto un'evoluzione allora diventano obbligatorie vengono introdotte mi sembra nel 1970 ed erano in realtà dobbiamo pensare a un mondo pre internet pre mobilità tra i paesi c'erano le frontiere e quindi era il modo per far conoscere qualcosa insomma far viaggiare le persone nei paesi dell'unione europea o comunque insomma dell'eurozona ecco mettiamola così c'è il signore dell'Azerbaijan Nadir Rustamli ah ma le tagliasse i cavei le tagliasse i cavei ed è identico a Conor McGregor il lottatore di MMA ma perché si è tagliato i capelli eh si è messo un po' in ghingeri però no ma aveva i capelli lunghi l'altro ieri ma perché cioè è lì che con un ballerino che che languisce come lui che languisce come lui a specchio quindi probabilmente c'è un significato recondito di cui mi sfugge il significato comunque scusate ma anche quello sembrava un'espressione proprio in azerbaijan il motto di quel paese dicono qua le chiacchiere stanno a zero scusate comunque per me no 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 ma brutto ma attenzione il belgio belgio il belgio qual è già jeremy ah è quello con la giacca antifiamme eccolo qua anche oggi alle scarpe antinfortunistiche esatto è giusto tutto in bolla è giusto è andato lì ma sì ha detto mettiti a posto a Torino io non mi fido allora anche la catena per i lavori in altezza c'è la lì di fianco comunque quando l'ho visto abbiamo ripassato io e Gian Cursi prima di venire qua sotto una pioggia molto romantica vero Gigi sì in Valpelice in Valpelice e questo qua come attaccato a cantare ho detto nei prossimi 30 secondi fa un acuto e infatti l'abbiamo piazzato lì ragazzi scusatemi c'era una notizia tristissima questa è la sessantaduesima partecipazione del belgio all'eurovision e ha vinto nel 1986 e basta ah è vero sì sì dobbiamo votare il belgio belgio tutto triste no triste di brutto ciao vai pure la grecia come siamo messi la grecia per me la grecia due stellari no ciao toto tutto triste tutto triste per la grecia sì sì per noi gli esandesi invece ci piacciono abbastanza vediamo l'esibizione sono tre sorelle hanno un look molto bangles però io avevo già visto le loro esibizioni e secondo me la bassista è quella più carismatica sì sì è proprio un po radio country americana c'è la bassista questa faccia che sorride ma sotto sotto pensi che sia un diavolaccio ed è questo forse che attrae della bassista dell'esisto questo gigi lo pensi solo tu ma guardate bene dai non dite che vediamo sei un uomo malizioso ma no guardate guardate bene devo dire che mi era piaciuto di più il primo ascolto è abbastanza insulsa un po enia no più nenia che educativi loro avrebbero potuto benissimo partecipare ad un primo maggio di quelli di quelli di un tanto di tempo fa quelli celebrati dalla canzone di Elio Strietese è un attimo ecco questa è una roba da Eurovision ci sono quelle baracconate che che fanno odiare la manifestazione a tante persone che la prendono molto sul serio ma tu che hai studiato bene la figura di Toto in questi giorni secondo te Toto si è dato per malato proprio perché si porta dietro questo alone di filo russo e quindi non voleva in qualche modo creare degli incidenti diplomatici di secondo ordine o no? ma io penso che non stia proprio bene e poi comunque devo dire che negli ultimi anni Toto è stato un po' è stato un po' dimenticato è diventato un po' una figura imbarazzante per questo grande successo che continua a avere in Russia e negli ex paesi sovieti ma poi è uscita questa notizia che era veramente era tra ridicolo e grottesco che i servizi segreti proprio dell'Ucraina tre anni fa se non sbaglio avevano bandito Toto Cotugno perché sostenevano che fosse una spia russa prima del febbraio del 2022 i russi avevano quasi preso in simpatia l'Italia facendo questi due capodanni fintamente italiani secondo te quanto ha contribuito l'Eurovision anche nella creazione di questo immaginario italiano oltre Cortina utilizziamo questo termine allora il legame a quel tipo di sonorità a quel tipo di immaginario dell'ex Unione Sovietica del blocchio sovietico è legato al fatto che la prima trasmissione occidentale ad essere trasmessa nell'ex Unione Sovietica è stato il Festival di Sanremo dell'inizio degli anni Ottanta in cui i gruppi che gareggiavano erano Toto Cotugno Ricchi e Poveri Albano Pupo e tutte queste cose qui perché era una musica totalmente disimpegnata ok cioè una musica di plastica innocua completamente e di conseguenza per loro quello è stato il primo sguardo sulla libertà in qualche modo all'Occidente edulcorato di plastica e quindi hanno un legame fortissimo con questi artisti ok a proposito di sguardo disimpegnato citerei lo sguardo della svedese Cornelia Jacobs che si esibisce con questo Hold Me Closer e veniva considerata una delle canzoni papabili per il podio oggi io e Sacchi ce la siamo ascoltata nel laghetto di Bobbio Pellici insieme e entrambi ci siamo detti e c'è sta qua qua c'è sta qua se fossimo stati romani avremmo detto e sti cazzi non ci ha passato praticamente nulla però secondo me lei ha delle ha delle buone possibilità di finire in alto sì sì questo pezzo questo pezzo d'Eurovision c'è c'è comunque lei mi sta proprio antipatica però la gente impazzisce quindi mi sa che abbiamo torto noi ma ho detto è papabile nei cinque ma per me cioè piuttosto tifo Portogallo tutta la vita Australia ma ha una maschera ha una maschera è il razor non so e poi a un certo punto si leva comunque stiamo andando avanti così in scioltezza con l'Australia all'Eurovision perché l'Australia all'Eurovision l'Australia partecipa dal 2015 all'Eurovision Song Contest ma le ragioni in realtà sono molto più antiche risalgono al 1979 perché l'Australia è entrata in questo network europeo del broadcasting è un membro associato e questa connessione portò già a trasmettere l'Eurovision in Australia fin dal 1983 senza mai partecipare la partecipazione con una canzone avvenne effettivamente nel 2015 in caso di vittoria dell'Australia l'Australia sceglierà la città europea dove ospitare l'Eurovision australiana ci siamo giocati qualche voto siamo un po' indietro ma di Totti Cotugni lui vince per me è Totti Cotugno che ride ti piace? ma sì non mi dispiace no anch'io zero per me zero? va bene no mi piace l'inglese lui è bravo eccoli qua lui è bravo Regno Unito Sam Rider fantastico sembra sembra che abbia una barba e una parrucca in testa una barba finta e una parrucca e che a un certo punto faccia devo essere sincero mi piacerebbe vedere un documentario backstage su come fanno a montare queste cose in tempo zero sì perché è tutto in diretta tutto in diretta il pezzo c'è comunque nel senso questo non è solo da Eurovision è un pezzo che può funzionare in radio all'asta grande ti sei perso l'esibizione migliore di Eurovision Sam Rider è vero chi? 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 chi è lei cullì? è un po' Guns and Roses è quello che c'ha la parrucca e la barba finta per me questo è no anche se vince per i 60 anni di Eurovision BBC fece un documentario che fa un insomma traccia tutto quanto alla storia di Eurovision chiaramente un po' si concentra sull'Inghilterra come sempre le cose BBC però effettivamente io non lo sapevo vi ricordate Katrina and the Waves? sì caspita Katrina and the Waves quando era un momento insomma un po' discendente della loro carriera gli proposero di partecipare a Eurovision e lei intervistata dice sai l'Eurovision può essere insomma è più facile che sia una pietra tombale sulla carriera di un artista che loro andarono e vinsero con veramente un bel pezzo e per loro fa veramente un grande rilancio quello Polonia Polonia è quello là che canta tipo il volo tipo il volo il volo polacco il volo polacco il pezzo polacco è di uno scenità senza confini non può non può io mi rifiuto veramente non c'è un doppio toto un doppio toto che piange però ha questi capelli un po' così è come se gli mancasse un polacco io vorrei gli applausi dalla regia probabilmente non ho più parole anche lacrime da piangere ho finito le lacrime ho finito le lacrime Constracta Constracta incorporo e sano è un pezzo in latino canta in latino? no ah ok però sarebbe stato bello comunque a me il pezzo piace ragazzi io se ne lava le mani ve lo dico c'è un significato nel testo Gigi l'hai tradotto Gigi? ce lo traduceva Piera oggi dicendo che gli artisti se ne possono lavare le mani quindi c'è c'è una sorta di concezione politica legata forse anche a tematiche covid ma in realtà l'ho traslato su un altro piano visto che l'Eurovision ha come fulcro l'idea che il cantante o l'artista deve essere disimpegnato in un trattare tematica politica e lei riesce a toccare tangenzialmente questo tema senza essere cioè senza fare nomi e cognomi capitale della Serbia capitale della Serbia? Belgrado dai questo è facile dalla regia mi conferma comunque per me sì per te sì anche per me sì per me sì dai dai premiamo anche per me sì però secondo voi il catino se lo sono portato dalla Serbia è una bella domanda questa allora Stefan arriva dall'Estonia e ha una canzone che si chiama Hope Speranza questo ci piace Stefan è una specie di Johnny Cash dell'Estonia di noi altri sì che riporta un po' in auge questi temi tarantiniani quindi già ripresi è un po' così ecco poi attaccano con questa roba con la chitarra giù un po' tipo il boss attenzione che è stato eletto l'uomo più sexy dell'anno vedi che c'è eh ragazzi ma quante ne sono ma quante ne sono ma sì è una roba tra Johnny Cash i Coldplay e la sagra dei peperoni a Carmagnola e voilà comunque Toto ride qua per me allora per me guarda io lo faccio piangere ma non perché cioè in effetti la canzone c'è trascinata sono d'accordo anche con la tua analisi ma se questo carica in Estonia pensa quanto ha caricato Toto Cutugno nel periodo d'oro in Russia allora io do la disapprovazione perché mentre voi parlavate io mi sono scritto il podio primo, secondo e terzo lo consegno al notaio ok al signor no al signor dai a me nella tasca della giacca anche io vorrei scrivere il mio podio Gigi direi che per oggi ne abbiamo abbastanza ne abbiamo assolutamente abbastanza termina qui questa puntata e alla prossima